Verifiche incrociate, controlli e sanzioni. Così la Camera di Commercio, le associazioni di categoria e dei consumatori vogliono guardare in faccia l'abusivismo presente nel settore immobiliare e contrastarlo attraverso un protocollo. Difficile calcolare l'entità del problema, ma si stima che l'evasione in Italia si aggiri attorno ai 750 milioni di euro e per sensibilizzare il pubblico all'argomento, giovedì proprio in Camera di Commercio si svolgerà un convegno incentrato proprio sull'abusivismo, un protocollo che vuole quindi sensibilizzare e rendere più trasparente il rapporto tra agenti immobiliari e clienti per dare indicazioni precise ai consumatori. L'obiettivo principale e diretto è quello di andare a tutelare il mercato sostanzialmente e quindi tutelare anche i mediatori onesti. Quindi la prima cosa da fare in questo ambito e che ci siamo proposti di fare con questo protocollo è quello di informare quanto più possibile la cittadinanza su quelli che sono i comportamenti corretti da parte di un potenziale acquirente, cioè il fatto in particolare di rivolgersi a soggetti professionali abilitati. Il campo del protocollo lavora sia sul contrasto all'abusivismo, quindi l'esercizio della melazione da parte dei soggetti non abilitati, sia quello del contrasto a comportamenti scorretti da parte di mediatori invece abilitati, perché chiaramente succede anche questo. La Camera di Commercio ha la competenza a erogare le sanzioni disciplinari per i soggetti che sono abilitati, che sono la sospensione e l'inibizione perpetua dell'attività e sulla base di segnalazioni che devono essere naturalmente verificate. Il compito delle associazioni sarà quello di indirizzare presso la Camera di Commercio i soggetti che lamentano comportamenti scorretti o che si siano affidati a mediatori abusivi. Sarà poi il compito della Camera di Commercio andare ad accertare e verificare le effettive responsabilità. Per arginare il problema un grande aiuto può arrivare direttamente dai consumatori che in qualche modo hanno la possibilità di tutelarsi e tutelare il mercato. Informando correttamente i consumatori che quando si incontrano un operatore immobiliare devono verificare che sia abilitato e iscritto in Camera di Commercio. Noi abbiamo un tesserino di riconoscimento, quindi la prima fase è richiedere questo tesserino di riconoscimento o verificare in Camera di Commercio se è iscritto.